Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti se mi vedete in ritardo se mi vedete un po' provato ecco è la giornata di oggi giornata abbastanza di fuoco non so se l'avete notato ma sono successe un po' di cose andiamo per ordine andiamo per ordine allora la prima è che c'è di nuovo questo fastidiosissimo bug su trading view per cui è tutto rosso non so se capita anche voi no scherzo e insomma un po' di dump un po' di sell off che mette a rischio di fatto la struttura di bitcoin di nuovo la mette a rischio non è la prima volta guardate il supporto è sempre il solito a 44.000 quello che stiamo seguendo ormai da quant'è un mese forse anche di più l'avevano detto l'ultima volta era 40 giorni adesso sono diventati 43 e perché ci stiamo muovendo all'interno di questo range abbiamo esaminato più volte la struttura di mercato dopo il bottom del primo dump il famigerato dump di maggio siamo rimasti un attimino a lateralizzare tra i 30.000 e i 40.000 in questo super range gigantesco poi l'abbiamo superato e siamo andati alla ricerca di un AI e adesso siamo proprio alla ricerca dell'AI e la domanda che ci stiamo ponendo da un mese a questa parte l'abbiamo trovato perché l'apparenza cioè la teoria secondo la quale l'avremmo trovato dice che quest'altro range per l'appunto che si è formato in questa zona potrebbe di fatto diventare il nostro prossimo high questo ci porterebbe ad una struttura che comprende il primo lower high ufficiale su larga scala ok stiamo parlando di una visione macroscopica infatti è utile sotto questo aspetto dare un'occhiata anche al time frame settimanale vedete sul settimanale abbiamo sempre una situazione fortemente crescente parabolica c'è stato un bull market parabolico all'inizio del 2000 che è culminato all'inizio del 2021 e poi dopo questo fortissimo costrutto di top abbiamo avuto il nostro dampone abbiamo fatto il primo low da queste parti low con forte accumulazione fortissima accumulazione anche in zona 30.000 ed intorni e poi c'è stato un po il colpo di reni che ci ha riportati appunto in zona 40 50.000 anche come top ma adesso c'è da capire questo sarà di fatto appunto il lower high oppure no e vedete che su questa scala si vede ancora meglio si capisce ancora meglio quello che potrebbe essere il disegno cioè da un lato la possibilità che questo diventi un lower high e quindi poi è tutto nelle mani del prossimo low che se va bene potrebbe fare un costrutto accumulativo se va bene se va meno bene potrebbe continuare il canale ribassista ok una cosa di questo tipo quindi è presto per dire qualsiasi cosa adesso come sempre ci dobbiamo concentrare sulla domanda questo intanto è l'hai e poi ci sarà nel caso da cercare il low la risposta alla domanda questo è l'hai diventa più tendente al sì se andiamo a perdere il nostro supportone a 44.000 le nostre solite analisi comunque il la situazione di oggi che è tutta da decidere ancora perché deve chiudere la candela dobbiamo vedere la reazione quindi come sempre farsi prendere dal panico è un qualcosa di inutile in una situazione come questa al primo sell off perché spesso e volentieri il rischio nel farsi nell'andare ad affrettare un'operazione i primi segni di vendita di acquisto di pump di dump che sia è andare a beccare l'esatto massimo all'esatto minimo quindi uno dice oh no adesso crolla tutto io vendo poi magari scopri che c'è un assorbimento perché quel sell off di oggi il panic sell va a generare domanda facciamo una candela che è tutta shadow rimbalziamo e uno dice bene ho venduto al minimo e adesso cosa faccio va a finire che poi ricompra in preda anche lì alla fomo e va a ricomprare ad un prezzo più alto quindi non bisogna cadere in questi errori bisogna pianificare e avere un piano in base a certi eventi non solo al sentiment del momento quindi dire bene io cosa faccio sono all'interno di una posizione sulla mia ipotesi che siamo in un certo tipo di trend bene almeno aspettiamo di vedere la struttura come reagisce la chiusura di oggi potrebbe esserci la shadow più o meno lunga potremmo perdere o non perdere i 44.000 questo cluster verde che ha il nostro supporto vedete che di liquidità in domanda qua sotto ce n'è quindi nessuno esclude che magari appunto stasera assorbiamo e chiudiamo qui se chiudiamo qui non sarebbe così bearish come cosa perché avremmo un tentato sell off assorbito e mostrerebbe di nuovo domanda per l'ennesima volta sotto questo pool sotto i 44.000 al contrario se chiudiamo qui ad esempio già non è benissimo perché comunque non c'è tutta sta domanda vedete la shadow è breve non c'è stato assorbimento rimbalzo quindi fa più presagire una volontà di andare a seguire con con la perdita definitiva del supporto a meno che non si presenti domande improvvisamente domani e faccia un rimbalzo di questo tipo una cosa del genere al contrario per capirci quindi tendenzialmente è sempre meglio non affrettare troppo le cose avere un piano che prevede almeno la ricerca di qualche conferma altrimenti ripeto c'è il rischio di correre in preda al panico andiamo a vedere meglio questa cosa alla fine quando parliamo dei grafici per l'appunto anche perché le altcoin hanno sofferto abbastanza anche loro non so se avete notato ma la dominance di bitcoin procede a rialzo perché quasi tutte le coppie alt btc in particolare quelle molto estese un classico hanno ritracciato pesantemente vi faccio un esempio atom che ha fatto un all time i giusto ieri molto estesa anche lei al momento papam ha fatto un meno 10% contro bitcoin quindi veramente non vorrei essere nei panni di chi ha comprato i massimi stavolta perché potrebbe richiedere un po' di tempo all'andarli a riprendere e allo stesso modo altre coin particolarmente estese come dot come mi pare anche avalanche ha preso una bella stagnobene anche tanto rispetto ad atom e qualcuna invece ha sofferto meno come cardano è interessante guardare quelle che hanno sofferto meno cardano ha sofferto meno solana ha sofferto meno insomma è sempre un'analisi curiosa no vedere anche quelle altcoin che sono un po' più resilienti al dampone durante queste fasi di correzione di bitcoin perché di solito veramente le altcoin soffrono in una maniera atroce e di solito quelle che sono un po' più resilienti sono quelli in trend al momento bisogna fare attenzione lì tra soppesare questa cosa e il quanto sono estese perché l'estensione comporta rischio l'essere in trend invece tendenzialmente comporta una maggior probabilità di assorbire meglio i dump comunque ne parliamo meglio alla fine adesso vi volevo presentare la pensi che il fallimento evergrande abbia influenzato le cripto ecco questo è un altro topic di cui si parla molto io sinceramente non credo che sia particolarmente legato alle cripto sembra che l'economia l'economia globale chiaramente diciamo che abbastanza compromessa in questo periodo da un punto di vista proprio generale non solo nel nell'area cina non solo nell'area real estate quindi anche al di fuori no di quello che è ciò che ha a che fare esattamente con questo caso però cioè è vero che molti indici oggi hanno aperto negativi e la borsa ripeto è abbastanza non ben messa da un punto di vista anche fondamentale e spesso le cripto in particolare in questo periodo i tassi di correlazione sono molto alti sembra il dollaro si sta un po' rafforzando forse per prezzare questa cosa e quindi questo potrebbe si influenzare in maniera negativa il mercato delle cripto però io tendenzialmente vorrei non dare troppo peso perché ci sono periodi in cui la correlazione è positiva periodi in cui non c'è periodi in cui è negativa io credo che cioè teoricamente se ci riflettiamo dovrebbe essere è brutto da dire ma dovrebbe essere uno scenario bullish per le cripto no la questa tempesta perfetta sulla sull'economia tradizionale e sulla finanza tradizionale però poi di fatto per il momento c'è ancora forte correlazione inversa con la forza del dollaro e diretta apparentemente coi principali indici in particolare quello americano è ancora tutto un mondo un po' da scoprire quello della correlazione però io ripeto cerco di trattarli come asset a sé stanti perché poi fondamentalmente cioè non dovrebbero essere non correlati dovrebbero essere inversamente correlati da a seconda delle logiche no che stanno dietro le cripto poi non so cosa ne pensate anche voi come sempre vi chiedo la vostra opinione che è un piacere da leggere da ascoltare e da discutere anche poi l'altra notizia l'altro motivo pare che tether abbia commercial paper evergrande in realtà no e ho letto che hanno smentito ufficialmente questa cosa avevo letto proprio lo smentito ufficiale di tether che aveva pubblicato la disclosure dicendo non deteniamo queste tipologie di paper comunque al di là di questo vi dicevo finalmente vi posso fare la scillata con la s maiuscola perché vi scillo un qualcosa di mio è il secondo grande evento di oggi dopo il dump con un tempismo perfetto ragazzi potete potete insultarmi tranquillamente dirmi hai scelto il giorno peggiore dei giorni peggiori per lanciare questa cosa ma finalmente per tutti coloro che sono interessati è disponibile da noi parlo di noi perché ormai parlo parlo come azienda non sono più soltanto io ma siamo quattro persone che un giorno vi presenterò molto volentieri abbiamo messo a disposizione un servizio di formazione one to one allora facciamo qualche spiegazione dovuta prima che mi saltiate alla gola dicendo sei diventato anche tu un venditore di corsi no assolutamente no se mi conoscete lo lo sapete anzi vi stupirò entro fine anno dal lato contenuti gratuiti perché arriverà un'altra grande novità e la prossima novità appunto è in direzione proprio dei contenuti gratuiti ma in una maniera che vedrete non vi dico nient'altro vedrete tanto in parte lo sapete già questa formazione vuole essere un servizio in più finalizzato a sopperire ad una domanda che ho notato una domanda molto viva molto accesa ed è la domanda appunto per un servizio che chiarisca dubbi dubbi di che natura di natura tecnica quindi ma se metto questo numero su metamask cosa succede ma come funziona il gas ma come funziona questa cosa su saber ecco cose più tecniche oppure magari qualcuno che si sente più si sente meglio di fatto se ha davanti un'altra persona con cui fare una chiacchierata chiedere le cose man mano che gli vengono in mente magari vuol far solo un percorso sulla defai capire la defai ma avere davanti una persona che se mi mentre mi spieghi mi viene in mente una cosa ti dico fermati un attimo ma questa cosa qua com'è che funziona cosa che nei corsi nei video corsi non è possibile questo è il motivo per cui io non ho mai avuto intenzione mai l'avrò di mettere a pagamento i video corsi li metto sempre a disposizione gratuita e sempre lo farò vedrete potete credermi l'ho sempre fatto finora vedrete che lo farò anche in futuro provare per credere ma proprio perché il video corso per definizione io lo vedo come un prodotto generico nel senso è impossibile che vada a fugare tutti i dubbi di tutte le persone che lo seguono magari uno lo può fare super dettagliato ma ci sarà sembra quella cosa che a cui non pensi viene in mente a chi c'è dall'altra parte di chat però questa cosa adesso c'ho sto dubbio come faccio a chiarirlo ecco questo è l'obiettivo del nostro servizio quindi non togliere nulla 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 i contenuti gratuiti che andranno avanti saranno sempre la mia priorità ma avere un in più a chi vuole o super approfondire o fare domande tecniche domande particolari dubbi di qualsiasi natura oppure costruire un percorso su misura accelerato o meno accelerato insomma una cosa su misura ripeto per per la persona interessata e non è da vedere come un corso dalla z e nel senso uno può arrivare già dire io vorrei fare due ore dove si parla di della defy su avalanche una cosa del genere se uno è già super skillato oppure vorrei conoscere tutti bridge come funzionano come usarli e li usiamo insieme una cosa così ecco vi sconsiglio vivamente poi sta a voi ragionare e valutare però arrivare chiedere ma io vorrei capire come si crea un account su binance cioè non ne vale veramente la pena perché comunque un servizio pagamento ovviamente è un servizio che punta essere molto di alto livello e non ne vale la pena insomma spendere per questo servizio per ricevere risposte a domande alle cui risposte potete tranquillamente accedere guardando i miei contenuti gratuiti ma comunque questo servizio è strutturato con un'assistenza clienti che lavora per noi e è a disposizione per fugare ogni dubbio quindi se voi arrivate gli chiedete una cosa del genere vi dirà guarda non ne vale la pena vai a vedere questo 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 video vi giri i link e basta non vi cerca di vendere la formazione a tutti i costi non è assolutamente questo lo scopo lo scopo è offrire un servizio di alta qualità a chi ne ha bisogno per davvero per dare valore aggiunto senza mettermi a fare ripeto i contenuti a metà dove vi faccio il tutorial a metà e dico se volete adesso capire meglio comprate la formazione non è da me e sappiate proprio per certo che non accadrà se siete interessati lasciate scrivete una mail al nostro al nostro support ufficiale alla nostra assistenza clienti attenti agli scam controllate bene perché support chiocciola decrypto gateway punto it il dominio è quello è il nostro è uno quindi non potete sbagliarvi ve la scillo ogni tanto qua su twitch dovrebbe girare e ve la lascio anche nella descrizione poi sul sul reposto su youtube e basta che dire se siete interessati buttateci potete solo chiedere informazioni buttatevi ci pure poi che dire come come preferite voi si struttura una cosa su misura oppure se non vi serve non la si fa poi basta chiudo la parentesi scillata ve lo volevo dire perché ne sono veramente veramente tanto orgoglioso ecco poi proseguiamo invece con un po di bullishness come piace a noi col nostro naib bukele il nostro presidente preferito perché è il primo e unico presidente che compra bitcoin con il suo stato l'el salvador che ha fatto buy the dip adesso c'è questo testa testa tra lui e michael sailor che dica e compro io compri tu compro io compri tu vediamo un po come andrà a finire e adesso il salvador possiede 700 monete come citando no un famoso poeta di pasta asciutta ne deve ancora mangiare naib per arrivare al livello di microstrategy però è sicuramente una una buona partenza e poi c'è il nostro mister whale che è lo insomma il fooder per eccellenza che quasi quasi lo blocco sono tentato di bloccarlo perché deve sempre fare il bear della situazione vabbè ciao poi cos'altro vi volevo dire ah sì ecco a proposito di scillata stavolta siete stati voi a scillare una cosa a me ma avete contattato uno di voi in particolare mi ha contattato mi fa ma luke tu che sei l'oscillatore per eccellenza degli exchange che che li provi tutti non hai mai provato uobi e io ho detto ma guarda ti dico la verità no non l'ho mai provato e allora mi avete fatto una super scillata spiegandovi spiegandomi un po i suoi punti di forza e mi avete convinto a iniziare a provarlo adesso ho iniziato a giocarci un po i punti di forza sono aspettate che vado a riprendermi il come si chiama il messaggio su telegram che mi avete scritto allora vabbè innanzitutto le fee molto competitive sui futures ecco i futures innanzitutto che ci sono ci sono sia coin margin che usdt margin quindi come su binance in sostanza con le fee dello 002 per cento sui maker e 004 sui taker e lo sconto volendo si può attivare uno sconto con i referral che adesso vi imposterò e vi condividerò anche quello state tranquilli e poi no la figata è questa il grid bot che infatti mi avete scritto per quello avevate visto il mio video su beats gap e mi avete detto ma guarda che c'è una cosa simile su uobi gratuita cioè tu semplicemente lo setti da uobi e lui va addirittura in automatico che non gli devi neanche mettere i parametri cioè tu scegli il come dire il payer la coppia che ne so vediamo atom per dire vediamo se ok metti automatico lui lo back testa da solo sui parametri degli ultimi sette giorni e ti imposta un po alla volta la griglia e la lasci andare ti da un apy annualizzato qua che che basato sui sette giorni precedenti ovviamente quindi è da prendere con le pinze è più una sorta di è da vedere come back test ecco vediamolo come come è oppure manuale dove si va a impostare i prezzi della griglia massimo minimo quantità con anche i settings con lo stop loss un po come come si chiama come beats gap di fatto però implementato gratuitamente allora io ho detto ma che figata adesso lo provo datemi un po di tempo per provarlo perché la sillata è fresca di oggi quindi fatemelo provare un attimino e poi se vedo che che è valido li metto un po a confronto se vedo che è valido vi farò sapere faccio un bel tutorial anche qui magari ditemi voi poi sapete se vedo che la cosa vi interessa la portiamo avanti se non vi interessa non la sto nemmeno a portare avanti poi vabbè anche qui c'è wabi earn con la possibilità di mettere a rendita mille mila coin diverse lo staking ci sono le tire un 2.0 c'è una marea di robe insomma c'è anche il bonus il bonus di 170 dollari per i nuovi utenti vedete che è anche facile da ottenere basta fondamentalmente aprire l'account fare il kyc e depositare 100 dollari e poi fare un po di volumi che ci vuole poco se uno trada in maniera abbastanza attiva nel giro di un attimo lo fa lì fa e poi wabi si è sempre mosso bene il top exchange asiatico forse il secondo comunque se andate a vedere le classifiche a uno dei primi e si sta muovendo per ottenere varie licenze so che ce l'ha mi pare in corea in giappone insomma è uno di quelli che si muovono bene lato compliance quindi ho detto ma si condividiamolo così vediamo se vi interessa non vi interessa sapete che quando si parla di di condividere qualche altro exchange non voglio mai sembrare di parte che ve ne propongo uno solo per per fare non lo so io il l'affiliato speciale di quell'exchange se c'è un prodotto buono io ve lo condivido poi solana solana allora il casino che è successo con solana è stato rilasciato un primo una prima review diciamo ufficiale dalla solana foundation di quanto accaduto il 14 vi ricordate il il giorno in cui il network è stato offline per 17 ore molto male sta cosa ne abbiamo già parlato parecchio e allora io adesso riporto queste parole poi lascio sempre a voi ovviamente il il compito di rifletterci e di trarre le vostre conclusioni e spiega un po quello che è successo che è quello che aveva già detto troppe transazioni overflow di memoria troppa poca ram che già comunque ce ne vuole di ram per avere un validatore di solana e quindi in sostanza è cresciato il network e non è stato più utilizzabile cioè iniziato a forcare sono successi un po di casini è diventato inutilizzabile e al fine di riportarlo app è stato necessario aggiornare i client dei validatori e proporre un fork in sostanza con il nuovo client aggiornato però ci voleva un quorum dell'ottanta per cento dei validatori per come dire per poter partire e quindi quello che è accaduto è che c'è voluto un bel po di tempo perché mille validatori poi all'incirca che sono quelli di solana si sono dovuti coordinare su discord e fare tutta questa procedura di disaster recovery e poi qui aggiunge in sua difesa chiaramente a un post scritto da solana è di parte per forza io non voglio dire non voglio aggiungere nulla voglio solo riportare le parole e dice qua non è un fatto di centralizzazione perché se fosse stato centralizzato bastava spegnere riaccendere ci si fidava di dell'avs di turno e ripartiva mentre per quanto riguarda solana con i mille validatori ci è voluto tempo per coordinarli ed era tutto nelle mani della community dove per community si intende appunto i validatori perché poi sono loro dall'altra parte c'è sempre da dire perché è giusto dire una visione ed è giusto anche dire l'altra poi ci si rifletta è giusto dire che i validatori di solana hanno dei requisiti particolarmente elevati in primi su una bandwidth una velocità di rete esagerata tale per cui è quasi d'obbligo averlo in un data center cioè non è che puoi metterti in casa un validatore di solana a meno che non hai veramente una connettività internet pazzesca è una macchina potentissima quindi questo tendenzialmente lo fa diventare un po dipendente dai data center e quindi tende a centralizzare questa è una delle principali accuse che si vanno a porre contro solana io vi lascio lì entrambe le cose non voglio essere di parte troppo di parte il mio punto di vista lo sapete già quindi non voglio fare non voglio ripeterlo troppo poi procediamo con un po di farming visto che ultimamente abbiamo parlato molto del farming vabbè su terra abbiamo detto è diventato un po il nostro safe heaven no quando non sai dove farmare farmi su terra col tuo 20 per cento di apy su su anchor collateralizzi etereum e luna e li metti di nuovo su anchor oppure c'è anche mirror poi che puoi collegare con le strategie delta neutral tutte queste belle cose questa è un po la nostra base no quando non c'è niente di meglio e dici poco però adesso paciugando un po come si dice dalle mie parti su avalanche e su arbitrum che sono adesso un po i miei due target preferiti no ho visto in particolare su arbitrum ho visto adesso volevo provarlo di force che è una è la piattaforma di landing principale su arbitrum e mi piaceva perché ho visto il 30 per cento su sdp in una situazione come oggi immagino che quindi l'apy sia un po retrocesso no dopo i dump di solito succede così e c'è anche un 25 per cento su link giusto l'altro giorno parlavo con un amico e dicevamo e ma mettere a rendita link come si può fare io lì per lì sono caduto un po dal pero perché io non ho mai holdato link e quindi non sapevo cosa rispondere ho cercato un po visto che di fatto non non ho visto sì con con maker magari lo si può collateralizzare prendere in prestito altre cose una stable coin e poi depositarla lo stesso lo puoi fare su ave per esempio ecco qua si può fare la stessa cosa però ottenendo un bel 24 per cento sul deposito per il momento è perché comunque è un mercato ancora poco liquido e quindi sono 80 milioni su di force se non erro 87 che non è male però è una piattaforma nascente adesso arbitrum è ancora per pochi tra virgolette tra l'altro alcuni di voi mi hanno segnalato due bridge uno è seller network e l'altro any swap se non ricordo ma vado a memoria e ci tenevo a farveli vedere con i loro pro i loro contro allora seller bridge seller bridge aveva alcuni limiti mi pare a ecco ok su se tramite seller bridge si può trasferire ad esempio da arbitrum a ethereum sapete che usando l'arbitrum bridge per trasferire da arbitrum a ethereum ci vogliono sette giorni bisogna aspettare sette giorni l'abbiamo visto nel video il perché e con seller bridge al contrario lo si fa praticamente all'istante solo che non c'è ethereum ma c'è weth il vrap ethereum quindi in sostanza poi c'è da trasformarlo in in ethereum e e poi c'è una piccola fi dello aspettate che ve lo dico vediamo se me lo fa vedere piatto un attimo di pazienza e vediamo se ce la facciamo tac allora il problema che io non ho bilancio quindi secondo me non me lo fa neanche vede eccolo qua no guardate allora da 1 a 0.995 quindi uno 0 ecco 0,004 0,5 per cento all'incirca di commissione da pagare appunto al bridge più le gas fee chiaramente quindi ai suoi pro i suoi contro perché poi da weth c'è da passare anche a eth però questo è uno dei bridge che permette il trasferimento istantaneo tra arbitrum e altre chain come vedete ce ne sono parecchie l'altro era any swap che vedete a router che permette di saltare dai th a il resto del mondo e wm quindi anche arbitrum il problema il problema il la limitazione è che c'è soltanto ci sono soltanto alcune coin non lo so se l'hanno l'ha nuppato proprio ora aspettato un attimo è perché io mi ricordavo che c'erano usdc e poche altre fatemi controllare ecco infatti da arbitrum ith c'è usdc e magic internet money che non so cosa sia però è molto divertente e basta quindi non c'è ad esempio th di solito quello il primo un po da trasferire e e basta quindi questo questo e quanto ve lo volevo condividere poi ecco di forse è interessante come piattaforma defy su arbitrum oltre alla classica curve che abbiamo già visto nei giorni scorsi adesso si sono un po abbassati gli apy a causa del dump insomma abbastanza il prezzo di crv dipende molto da quello abbiamo un 20 per cento più due sul tre cripto un 13 e 30 su btc che è ancora ottima a mio parere dunque su aspettate su di forse quant'era su vbtc fatemi controllare che vbtc è uno dei collaterali per 11 67 non male non male qua 13 e 30 tra le due forse sceglierei ancora curve perché curve è curve come si suol dire e a tal proposito è stato creato il la mozione no la proposta per portare curve anche su harmony e quando curve arriva su una nuova chain di solito ci sono opportunità di farming bellissime soprattutto perché ci saranno oltre ai token crv anche 2 milioni di dollari di incentivi in token one quindi noi andremo a farmare con i pool se andrà tutto bene andrà in porto i pool su curve l'apy di base l'apy in crv l'apy in one secondo me sarà una figata se arriverà io lo spero e infine c'è su avalanche ho fatto un po un check no di della varia defi su avalanche e ho visto che trader joe trader joe ha scavalcato pangolin che era il dex più utilizzato aspettate che cecchiamo di nuovo è avalanche bank ui trader joe eccolo qua tac con 750 milioni di tvl più del doppio di pangolin e ho guardato un po per farmi un'idea no sapete che quando voglio fare un benchmark tra i dex vado a vedere innanzitutto l'apy delle delle stable coin e qui abbiamo un apr ad esempio sdc usdt del 22 per cento apr quindi i py sarà 24 25 poi andiamo a vedere se c'è qualcos'altro di interessante pa 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 usd a ecco però mi va a prendere tutto mi va a prendere usdc dai 17 per cento usdt dai 19 siamo sempre lì andiamo a vedere un po tutti dai facciamo ordina per liquidità è già ordinato così secondo me no allora così al contrario tac avax usdt non mi piace link avax 60 per cento non male e poi vedete quelli delle stable sono sempre quelli che vanno per la maggiore e che dire è interessante un 20 e qualcosa sulle stable se c'è adesso 17 19 allora piuttosto uno dice me ne sto su anchor e ci sta come ragionamento però se dovesse già diventare 30 potrebbe valerne la pena anche 20 anche per un tema di diversificazione no alla fine è tutto lì e basta 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 direi su yield yak tra l'altro che come sta crescendo 2 34 milioni volevo andare yield yak eccolo che è l'aggregatore dovrebbero esserci abbastanza pompati questi farm però io non mi sono ancora fidato a usarlo yield yak cioè gli aggregatori io di solito aspetto un po' a utilizzarli perché mi spaventano dopo quello che è successo in passato pancake bani autofarm tutte quelle varie cose lì allora stable coins vedete c'è un po' di di effetto compounding cycle no su trader joe si arriva al 23 25 usdt usdc al 32 eh sì c'è un po' di boost ecco poi ci sono anche altre delle nuove piattaforme che forse vale la pena darci un occhio ma non oggi altrimenti non finiamo più poi l'ultima notizia giuro poi do la parola a voi altrimenti vi annoio a morte scappate coinbase butta dentro si arrende con il il voler lanciare il suo prodotto di landing perché la sec l'aveva minacciato di fargli causa se l'avesse fatto e coinbase ha fatto un attimo un passo indietro ha detto aspettato un attimo dai non non lo lanciamo e non lo so anche perché c'era stato il dibattito no vedete qua avevano detto avevano fatto tutto l'articolo polemico e la sec non ci risponde non ci parla non ci fila e poi hanno fatto così boh guarda non so più che cosa pensare e non so che effetto avrà poi sul landing in generale perché vabbè l'america è un paese a sé sappiamo che ha delle regolamentazioni più restringenti degli altri paesi soprattutto poi perché c'è la sec di fatto sono curioso di vedere che piega prenderà perché comunque il crypto landing è un prodotto destinato ad avere un mercato enorme quindi è importante vedere anche pionieristicamente le prime regolamentazioni come sono basta ho terminato direi che posso passare la parola a voi con sullo sfondo il nostro grafico graficozzo anzi di bitcoin allora 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 luke che cos'è una security bella domanda allora in teoria una security dovrebbe essere un asset che passa il cosiddetto test di highway se tu lo vai a cercare highway test ti spiega anche esattamente che cos'è il cioè che quali sono i punti no del del highway test il fatto è che andarlo ad applicare alle cripto è forzatissimo cioè non è fatto per le cripto è fatto per asset di differenti categorie si può andare ad applicare a qualcosa come le ICO perché comunque hanno un modello simile lo si può andare ad applicare a se ci fosse non lo so un token legato al allo stacco di un dividendo ufficiale no allora lì è un conto ma altrimenti è veramente un campo complicato andarlo ad applicare alle cripto e quindi c'è sempre stato no questo dibattito di che cosa è security e che cosa non è security c'era il dibattito tra gli utility token che sono delle cripto il cui scopo è solo avere un'utilità no nel loro ecosistema vedi una exchange coin che dicono no no guarda questo l'unico valore è ridurre le fee su binance e usarlo come gas su etereo e robe del genere mentre le security sono un prodotto finanziario a tutti gli effetti che dovrebbe essere regolamentato dalla SEC che è appunto la securities and exchange commission e quindi adesso addirittura il lending è una security cioè non lo so mi sembrano tutte un po' delle forzature un po' non voler imporsi laddove non c'è chiarezza sfruttare la non chiarezza per dire io sono più potente di te io ho detto le regole quindi tu sei una security e non rompere le scatole non lo so non mi piace affatto come approccio ad essere proprio proprio sincero poi vediamo dunque Luke ci spiegheresti bene in che maniera Anchor riesce a dare il 19.5 su UST allora non mi ricordo se ve l'avevo già spiegato comunque ve lo spiego più che volentieri perché è un modello molto interessante allora Anchor Protocol di fatto è una piattaforma di lending su terra aspettate che sono collegati in testnet fatemi fare questo giochino qua tatac mainnet perché altrimenti si vedono i valori sballati allora vediamo refreshiamo ed eccoci qua per magia allora come funziona piattaforma di lending quindi prendete ave prendete come è che si chiamava di force prendete qualsiasi piattaforma di lending e applicate lo stesso modello io metto a collaterale degli asset in questo caso luna ed eth e li utilizzo per avere una borrowing power si chiama quindi un potere di indebitamento che posso utilizzare per prendere in prestito UST questa è la base come funziona il money market qui dentro allora ci sono due cose questa base quindi del borrowing e lending dove il borrower colui che prende in prestito UST quindi paga io se vado a fare borrow vedete che io pago il 21,79% poi è vero che l'APR netto è positivo a mio favore ma perché Anchor ci bombarda di token ANC e ci droppa il 39% di APR in ANC quindi se io vado a prendere in prestito 1000 UST supponiamo io poi dovrò restituirne a fine anno 1217 se tengo per un anno e l'APR rimane tale io dovrò restituire di più chiaro e però avrò guadagnato 390 in ANC chiaramente poi gli APR borrow e distribution cambiano giorno per giorno quindi vanno seguiti attenzione perché se qua poi diventa rosso cambia un po' tutto però io di fatto per prendere in prestito UST sto pagando il 21,79% quindi questo 21,79% va nelle casse di ANCOR le casse di ANCOR che cosa fanno? lo vanno a distribuire in parte ai lender quindi a chi va a dare liquidità in UST perché se non ci fossero i lender non ci sarebbe il borrow perché se nessuno va a depositare UST e uno vuole prendere in prestito UST non ci sono non c'è mercato deve esserci domanda deve esserci offerta quindi va a finire esattamente lì dentro ok? quel borrow APR che abbiamo visto inoltre c'è una cosa in più tendenzialmente i money market funzionano solo così quindi hanno l'APR scusate l'APR di borrow che va a pagare i lender è il modello di base no? come quando vai in banca a chiedere un prestito tu paghi gli interessi alla banca anziché la banca c'è un terzo che fa da prestante tu paghi gli interessi al terzo in questo caso oltre agli interessi che paghi ci sono come collaterali degli asset proof of stake che vanno a generare rendita biluna e biet sono luna ed eth messi in staking luna in staking ti genera quel cos'è un 5% adesso giù di lì dopo columbus 5 sarà di più eth ti genera anche lui il 6 e qualcosa su ethereum 2.0 il bonded sta proprio per dire io rinuncio faccio il bonding rinuncio alla rendita andando a depositarlo come collaterale cioè se ce l'avessi io lo metterei in staking e ingotterei 6% se lo collateralizzo rinuncio alla rendita la cedo ad anchor ok? e io in cambio ho potere di indebitamento su ust questa è la logica quindi nelle casse di anchor ci va a finire anche lo staking dei collaterali tutto questo si somma va nelle casse di anchor e genera quella che si chiama yield reserve che adesso è di 67 milioni e quando la piattaforma è sana la yield reserve cresce nel tempo quando la piattaforma invece non è al 100% decresce e se tende a zero c'è da fare qualcosa l'ultima volta è intervenuta la terra terra labs terra foundation non so come si chiama e ha rimpinguato con le sue casse la yield reserve perché altrimenti non riesce più a pagare il questo dov'è dov'è il 1927 attuale l'apy di deposito di ust quindi questo è una panoramica sul come funziona finché c'è yield reserve c'è speranza in altre parole e se la piattaforma funziona bene la yield reserve cresce nel tempo spero di essere stato chiaro ma è importante capire questa cosa e spero di non avervi fatto scappare perché è molto utile è una delle piattaforme veramente più più migliori scusate la licenza poetica allora non ho mai sentito un tuo parere sulle pool di uniswap vero è che per capitale più grandi date le fee ma cosa ne pensi allora le pool di uniswap sono adesso che c'è la versione 3 sono interessanti perché in sostanza si va a mettere liquidità in un range specifico di prezzo e quindi con meno capitale cioè c'è un apr più alto sostanzialmente e quindi che dire io credo che che sia molto valida secondo me molto valida c'è da trovare i pool giusti quelli con i giusti volumi e il range di prezzo giusti ci vuole più strategia cioè non è un deposite dimentica quindi ci vogliono capitali alti e comunque un attimo di know how di come funzionano i pool di liquidità poi domandona quando metto in bond luna se metto biluna come collaterale non mi danno apr giusto no se tu metti solo collaterale non succede niente se prendi in prestito ust allora hai l'apr del prestito e poi quello che prendi in prestito puoi depositarlo e avere anche l'apr del deposito dello yield dunque cosa ne pensi del nuovo token bit sulla piattaforma by bit? ah ecco bit dao non ne abbiamo neanche più parlato tra l'altro ma perché non so neanche se ci sono novità io avevo fatto la mia scommessina ne avevo grattato qualcuno ve l'avevo anche presentato e è una una dao che adesso è un po' appunto un nuovo trend quello delle dao con dentro by bit dentro altri insomma player importanti ho detto ma buttiamoci qualcosina proviamo e adesso fanno la ico la ido io non so come chiamarla su by bit magari ci facciamo un post anche su quello su telegram magari ve lo condivido per per vedere un po' com'è vediamo vediamo allora ci spieghi come si può prevedere il rendimento di una pool avendo apr da apr apy allora c'era una formula te la trovo eh perché l'ho trovata semplice tipo apr tu apy ecco guarda apr tu apy.com fantastico e dipende dal compounding esatto se ad esempio tu hai un 20 per cento di apr e fai compounding ogni giorno l'apy è del 22 13 ok quindi to te lo condivido anche se è un sito molto complicato apr to apy.com complicatissimo però te lo condivido poi ma un bel video tutorial su ftx futures lo facciamo lo facciamo tra l'altro amici miei domani a proposito di tutorial eccetera arriva il il video su si ciao mi viene avalanche buona son fuso ragazzi son fuso volevo dire algorand a grandissima richiesta arriva domani se tutto va bene eh arriva ma atlas e poli scalo continuo infinito e ragazzi miei lo sapete come funziona con quei token lì eh lo sapete lo sapete vediamo atlas atlas usd e ho avuto ha fatto 100 110 per tipo da dalla dal prezzo io al top cioè non si può pretendere che tenga e poi è il classico discorso delle coin neolistate io io lo sapete come la vedo io la vedo sempre così e poi dopo algorand trattiamo tutti gli altri layer 1 alla volta phantom trattiamo poi cos'è che mi avete chiesto e gold elrond h bar l'ho aggiunto l'ho aggiunto giuro lo facciamo anche quello e poi che altro c'era me ne ero segnati me ne sono segnati una valangata di layer harmony tutto 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 li facciamo tutti vediamo 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 hai letto del nuovo ip si 3663 di etereum nft modificabili con altri nft si in sostanza li puoi fare a pezzi anche modificare rendere adattivi molto bello molto bello in pratica una delle singole cose che si può già fare oggi con kusama grazie al protocollo di rmrk con canaria remark esatto pensa un cripto punk che può essere brandizzato nike in futuro il futuro canaria va approfondita e ancora presto scillata in diretta grazie no vice in holder ci ha lasciato delle perle valide in passato quindi ve lo condivido volentieri e me lo me lo volevo studiare anch'io però poi non l'ho mai fatto mia colpa mia colpa poi 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 coin 98 wallet versus metamask è fantastico coin 98 lo devo 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 approfondirlo però l'avevo provato ed è molto molto comodo anche come bridge come cioè non è solo un wallet è un un hub defy no fai un po tutto da lì luke ma se suopo degli ust in bet su terra è la stessa cosa che metterli in staking su lido allora e attenzione però su lido il passaggio è da etereum a bet per l'appunto e soprattutto rimani esposto ma sei esposto lo stesso sì cioè tu su lido parti da etereum li trasformi in bet mettendoli in staking e i bet poi li vai a collateralizzare su anchor tu dici fare lo swap su terra swap dovrebbe sì fai lo swap però parti da ust e non da etereum però direi assolutamente di sì direi proprio di sì cosa ne pensi del cloud mining su smartphone per minare dogecoin mi hai messo insieme tre cose che mi triggerano veramente via fulminato fulminato no scherzo non lascia perdere sinceramente lascia perdere poi 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 secondo te preoccupante la polla cds in china guarda sicuramente sì cioè però non per le cripto per quanto mi riguarda è un problema per per l'economia mondiale perché comunque ci sarà da fare il bailout anche lì insomma solite cose che già conosciamo però è cioè ha fatto vedere una situazione che cioè veramente incredibile incredibile poi che ne pensi di phantom e vet allora phantom non ho ancora studiato bene la tokenomics però è uno dei layer che sta spopolando di più in questo periodo vediamo anche il grafico era molto esteso ftm pam e oggi ha corretto assai meno 11 per cento contro bitcoin vedete che quelle estese si fanno molto più male vediamo sul weekly se c'è qualcosa è ancora molto esteso molto esteso mi fa una paura dannata e sinceramente farei molta attenzione perché molte altcoin stanno facendo una struttura un po antipatica contro bitcoin o meglio fare dei lower high vedete ad esempio phantom guardiamo anche cardano che è una di quelle che sta performando oggi meglio però guardate cosa ha combinato ha perso questo low ha fatto un possibile costrutto di top insomma bisogna fare un po di attenzione con le alt atom è una delle più estese vabbè non ha ancora toppato per il momento bnb vediamo bnb è sempre non si muove è sempre lì che dorme per il momento non tiriamo gufate poi delle altre delle altre particolarmente hypate nel momento cos'è che c'era forse proprio one tra l'altro che aveva esteso e però ha fatto vedete questo costrutto qui che è bruttissimo questa punta che sa molto di top cioè è una situazione per cui fanno cioè ci metteranno un po no a recuperarli se li recupereranno quindi mi fa passare la voglia di andare a cercare le posizioni lì se si parla di di speculazione questo è il disco lo stesso per solana è per non cioè anche solana comunque ha fatto una punta del genere che nonostante non ha perso tecnicamente la struttura però vedete bene che insomma la situazione sembra essere un po questa non cioè dovrebbe andare veramente a riprendere a rompere ancora le scatole ai massimi o fare un bel range oppure addirittura romperli c'è della strada da percorrere ecco quello quello sicuramente sì vediamo 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 domanda da new bazzo ma perché ftx mi dice che vuole 75 dollari per fare un bonifico no non li vuole attenzione non li vuole per fare un bonifico perché cioè gratuito sia il prelievo che il deposito in euro ho capito noi 75 dollari sono per il deposito di dollari per l'appunto quindi riguarda chi muove dollari sotto i 10 mila però per gli euro il sepa è gratuito ho capito cosa cosa intendevi poi vediamo mi spieghi che significa compounding e auto compounding volentieri allora compounding cioè l'auto compounding è quello che fa una piattaforma tu immaginati quando vai a farmare no vai a dare liquidità su pancake swap supponiamo su un pool qualunque con due coin la liquidità la dai e lui ti premia in cake quando metti in staking il token lp metti in cake cioè la liquidità te la dai in cake e tu se vuoi andare a usare quei cake per accrescere la tua liquidità nel pool li devi vendere trasformare nelle due coin nel pool mettere nel pool e ripetere il ciclo no mentre l'auto compounder questa operazione si chiama compounding perché tu usi i profitti componi i profitti no li prendi e li rimetti dentro all'asset l'auto compounder lo fa da sé quindi tu non devi far niente depositi gli metti gli lp nell'auto compounder l'auto compounder fa tutto tutto quanto da sé quello è questo tutto volevo chiedere cosa succede ai croc che sono stati bloccati 180 giorni per la carta restano assolutamente lì restano restano lì sono in staking su crypto.com e finiti i 180 giorni se vuoi li ritiri li li unstake però come si dice li perdi privilegi della carta e basta altrimenti rimango lì luca che ora finisci che devo accendere il fuoco per la cena tra cinque minuti guarda vedo che siamo già a 50 e passa quindi assolutamente sì assolutamente sì dunque 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 allora vedi dove siamo finiti ah eccola qua allora avrei bisogno di aiuto sto investendo in crypto.com e mi sto appassionando molto tra supercharger nft ed exchange visto che però il mio investimento sta diventando più o meno importante vorrei stare il più tranquillo possibile in termini sicurezza posso fare altro leggere a parte che non sono ancora così pro tra two factor authentication e face id guarda ti posso dire usando una piattaforma online fatti credenziali apposta quindi email e password monouso per quella piattaforma non usarle anche altrove così alzi la come si chiama la sicurezza no la tua difesa usa magari un password manager per gestirle tutte che così non diventi pazzo non salvare le password online o in un file che si chiama password mi raccomando e poi che altro è c'è l'anti phishing il codice anti phishing da abilitare poi ci sta cioè il two factor authentication ci sta non farlo sms ovviamente face id password forte e poi se tieni comunque le cripto su una piattaforma online è peggio che tenerle sul ledger se puoi chiaramente se se vuoi holdare tienile sul ledger luca da quando ti hanno spedito la cripto.com quanto gli aspettato io non faccio testo perché era in un periodo era un altro era quasi due anni fa ci ho messo l'ho aspettato un mesetto circa ma era il periodo in cui la ordinavano tutti tutti veramente tutti adesso credo che ci voglia una settimana o due se non erro o no mi pare proprio di sì e sono tre mesi che hanno spedito la carta ma non arriva mai sei sicuro che è una settimana io la rubi infatti io ho sentito dire che è all'incirca una settimana dunque 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 dove dove era cos'è un password manager a un password manager è tipo one password o altri insomma altri come si chiede password managers per l'appunto che vanno a ti prendono cioè tutte le password che hai le salvi all'interno del password manager a sua volta lo cripti con un'altra password che è la master password e tu hai tutte le password salvate lì dentro basta tutto lì io utilizzo quello di tresor il tresor password manager che le decrypta col tresor figata è come fosse hardware bitwarden consigliatissimo ottimo grazie per la dritta e uno dei più famosi a one password che costa tipo tre euro al mese una roba del genere allora allora amici miei 55 minuti stavolta vado lungo però vabbè non me ne vogliate voi posteri su youtube tanto ringrazio come sempre chi si abbona chi mi sostiene chi dona ragazzi l'abbonamento su twitch per voi può essere gratuito se avete amazon prime per me è una piccola donazione io vi ringrazio veramente di cuore e quindi che dire grazie va rinnovato ogni mese l'unico modo è quello con amazon prime dove collegare l'account amazon a quello twitch vi da una sub una subscription al mese gratuita ma da rinnovare ogni mese è un lavoraccio ma qualcuno lo deve più pur fare andiamo a vedere bitcoin allora cosa abbiamo detto prima abbiamo detto che si gioca un po la partita contro questo supporto prima di farci prendere dal panico aspettiamo di vedere cosa cosa succede su questo supporto qualcuno mi ha chiesto dell'analisi on chain prima l'analisi on chain oggi non la volevo fare perché è una situazione un po turbolenta quindi volevo vedere una volta che poi si rimette un attimino si placano le acque vedere appunto i movimenti che secondo me dà più chiarezza adesso si vedono movimenti cose ma si rischia di non contestualizzarli quindi io aspetterei per oggi parentesi analisi on chain e la chiudiamo e non vuol dire che non c'è più ci sarà sempre ma adesso durante un dump preferisco guardare questo grafico quindi vi dicevo supporto dei 44 cap che è attaccato vediamo un po come reagirà vediamo come chiudiamo oggi soprattutto io guardo sempre se chiudiamo sopra sotto ovviamente il supporto chiudere sopra è meglio che chiudere sotto e ha meglio anche che chiudere appresso che però è meno peggio che chiudere sotto ovviamente e poi il rapporto body shadow allora quello che abbiamo fatto oggi è stato uno sweep qua sotto vedete c'era 43 2 con questo low l'abbiamo sweepato pam e poi c'è stato un po di assorbimento se adesso andiamo a chiudere sopra scusate sopra il supporto stesso il rapporto body shadow ci aiuta a capire la l'entità della domanda quindi in primis se la shadow è più lunga del body molto più lunga del body soprattutto immaginatevi una shadow fin qua e un body qua un palloncino quello che succede è che la domanda è predominante quindi diventa bullish no la cosa mentre se il body è predominante rispetto alla shadow su una candela rossa chiaramente è bearish se chiudessimo così sarebbe bearish per esempio poi la seconda cosa da fare a vedere la reazione di domani perché anche se chiudiamo qui e domani ad esempio dampa di nuovo oppure rimane fermo oppure fa non lo so una candelina verde così c'è comunque l'offerta in vantaggio no e quindi rimane tende di più al bearish no più candele chiudiamo appresso al supporto sotto in bearish più il mercato tende al bearish ok c'è più probabilità in sostanza di andare a fare una leg down e di andare a formalizzare il lower high mentre se domani se chiudiamo qui e domani abbiamo una bella reazione verde pam di questo tipo allora la partita potrebbe essere ancora aperta no potrebbe essere aperta perché dobbiamo vedere poi alla fine chi ce l'ha vinta ma intanto abbiamo rimbalzato di nuovo su questa zona che ha un pool di domanda quindi per per dirla tutta è presto per farsi prendere dal panico non è bellissimo quello che abbiamo visto perché mi hanno ribalzato sul range high e l'offerta ci ha risbattuto giù e sono ricomparsi un po di volumi quindi tra l'altro andiamo anche a vedere le liquidazioni come come sono liquidation tac vediamo un po nelle ultime 24 ore un miliardo neanche tantissime pensavo peggio pensavo peggio 24 ore abbiamo bitcoin ethereum ripple solana tanta solana guarda che adesso ultimamente è scambiato e quindi niente questo è per capire l'ultimo l'ultimo dump liquidati 3 miliardi e qua uno è un terzo più o meno comunque che dire bisogna vedere come reagiamo perché al momento cioè non ha senso ripeto affrettare una posizione adesso dove non abbiamo perso la struttura andare ad aprire il long affrettato qui è un po rischioso perché comunque dopo cioè in una situazione come questa in cui attacchiamo con violenza un supporto dopo un potenziale lower high è un rischio e quindi bisogna vedere che si plachino le acque i setup li avevamo già visti e quindi cioè rimangono rimangono quelli se vediamo che rimaniamo dentro al range ci sta poi andare a cercare il long da qui a qui se invece fuori usciamo a ribasso aspettiamo di vedere dov'è il prossimo low e prenderemo posizione in base a quello tutto lì le altcoin le abbiamo già viste quasi tutte andiamo a vedere un attimino ethereum che non ha sofferto più di tanto però guardate ha perso questo supporto vedete che era era prima prima era un entry al momento non lo è più adesso però oggi ha fatto una candela abbastanza dominata dalla shadow quindi potrebbe essere interessante un eventuale recupero di questo livello e potrebbe essere quello sì un setup long stiamo a vedere vedete nasce da qua e per il resto le abbiamo già visto un po tutte allora la capitalizzazione totale dopo aver fatto una shadow che ha affondato di nuovo fin lì ha rimbalzato e per il momento non è bellissima però non è neanche bruttissima nel senso c'è di molto peggio siamo in quest'area tra il 23.6 e il 38.2 dobbiamo un po vedere questo potrebbe essere un higher low e potremmo andare avanti così quindi stiamo un po a vedere cosa avrà intenzione di fare se andiamo a recuperare i 2.2 tac qua sopra invece ritorniamo bullish perché fino a poco fa vi ricordo che la total market cap era molto bullish adesso oggi hanno preso una bella batosta le altcoin quindi c'è da fare un po più di strada per recuperare ebbene cro grazie sì diamo un'occhiata cro diamogli un'occhiatina tac cro guardate che tra tutte si sta comportando anche bene guardate che roba sarà per la main net in arrivo di kronos probabilmente ha un bel catalizzatore quello però è in uptrend ancora inviolato c'è questo range volendo che sta formando dobbiamo vedere un po come si risolve però il trend è rialzista per il momento e i 20 centesimi sono la prossima resistenza che se rotta poi andiamo a rompere le scatole ai massimi quindi ci starà poi l'eventuale setup long amici io adesso direi che ci possiamo salutare perché l'ora l'abbiamo fatta l'ora l'abbiamo fatta quindi quindi compiti che rimangono da fare io mi vado vado a giocare un po con uobi e vi tengo aggiornati perché secondo me ne vale la pena quel discorso del bot un po le features che ha vi farò come al solito un post su telegram riassuntivo poi vedremo cosa vi interessa se vi interessa testo un po il grid bot per vedere che cosa può fare cerco di ottenervi qualche sconto qualche qualche promo qualche referral come come so fare solo io e poi vediamo di approfondire qualcosa ci vediamo per algorand domani poi giovedì vediamo adesso tutti i miei layer one da studiare insomma un bel ho un bel mesetto a due di studi davanti a me nel frattempo se vi interessa la formazione one to one vi ricordo di contattare il nostro support chiocciola thecryptogateway.it via mail support si scrive e strutturare con loro il percorso se vi interessa insomma se siete appena arrivati guardatevi l'inizio del video che ne ho parlato lì amici io vi faccio detto questo un carissimo saluto vi auguro una buona serata e noi ci rivediamo mercoledì alle 18 e 30 circa anzi domani 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 forse ho una live dagli amici di ingegneri in borsa ma nel caso vi avviso e poi mercoledì a pranzo all'ora di pranzo la live dagli amici di binance italia quindi no di roba di roba ce n'è di roba ce n'è binance italia il gruppo telegram mi raccomando se vi era arrivata la notifica era per quello vabbè basta sto facendo confusione ragazzi vi faccio un carissimo saluto buona serata a mercoledì ciao